Siamo nel vivo dei festeggiamenti della parrocchia Gesù Cristo Redentore qui nella via Kennedy ad Alcamo, un quartiere densamente popolato e che, come ben sanno gli alcamesi, ha bisogno di essere valorizzato anche con delle manifestazioni, tra cui le meeting del cane che si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti stessi e di cui ci parlano gli organizzatori. Allora, io direi di iniziare con i saluti a partire dalla signora che si chiama... Rosalba Battaglia. Io Antonio Calamia. Cleofe Calamia. Dunque, da chi iniziamo? Chi è il principale organizzatore? Insieme a entrambi. Quindi, allora, niente, il terzo meeting del cane si terrà domenica 16. Questa cosa è nata qualche anno fa assieme a Rosalba per cercare di valorizzare un po' il quartiere e poi è molto richiesto dai cittadini, dagli amici, insomma, chiunque ha un cane a casa, quindi è bello che si faccia partecipare a qualche manifestazione. La cosa bella è che abbiamo avuto moltissime richieste e quindi quest'anno abbiamo cercato di rifarlo grazie a tutti quelli che ci hanno cercato, al prete, a Don Franco, a tutti quelli che ci hanno cercato e noi cercheremo di dare il meglio per fare divertire le persone. e comunque è aperta a tutte le razze il meeting e a parte questo faremo una speciale meticcia. Chiunque ha un meticcia a casa è giusto che venga anche a fare una garetta con lo suo cane. Sperando che il tempo ci accompagni, speriamo di sì, comunque, e speriamo che tutto vada bene. Quindi partecipanti quanti complessivamente? Allora, se tutto va bene dovremmo avere più di 100 iscrizioni, se tutto va bene. Quindi si presume molto di più, perché hanno chiamato da vari paesi le mitrofi e quindi si presume che ci saranno molti cani all'esposizione. È una cosa, come diciamo, molto richiesta e quindi speriamo che tutto vada bene. Bene, già le precedenti edizioni sono state piuttosto partecipate, vero? Sì, sì, assolutamente sì. Diciamo che abbiamo voluto inserire nell'attività parrocchiale come festività questa nuova esibizione di cani, questa gara di cani. È una festa parrocchiale che ogni anno facciamo. Da tre anni che abbiamo voluto inserire questa attività abbiamo visto che i bambini, specialmente i bambini, si divertono tantissimo oltre agli adulti perché giustamente mettono in mostro il proprio animale è coinvolgente. Antonio è riuscito a portare una bella realtà che tutti i cittadini quest'anno ci hanno richiesto siamo stati fermi da due anni a causa del Covid e adesso invece vorremmo ripartire nuovamente con questa manifestazione. Diciamo che è una bellissima cosa la chiesa Don Franco ci sostiene perché è bello cercare di portare sempre più gente in questo... Ringraziamo pure chi è venuto a darci veramente una mano a pulire tutto il piazzale, le strade perché c'era veramente bisogno perché il piazzale era un po' disastrato di bottiglie di vetro vetro rotto quindi era abbastanza grave per i cani che gareggeranno. Il comune si è predicato a venicciolo a pulire e ha fatto un gran bel lavoro quindi ringraziamo anche il comune per il lavoro svolto. Cleofer vuoi dirci qualcosa? Sì, è una manifestazione soprattutto organizzata anche per i bambini che giustamente si vedono molto spesso esclusi da queste manifestazioni perché i cani grandi oppure i cani che possono sembrare aggressivi e quindi i bambini vengono esclusi. In questa manifestazione no, anzi saranno i bambini i primi protagonisti diciamo di questa manifestazione e quindi speriamo che si divertano che vengano tanti bambini, tante persone soprattutto tanti cani, animali che purtroppo a causa del Covid sono stati a casa per due anni e quindi è un modo anche per farli uscire e farli rapportare anche con gli altri cani e anche con le altre persone. Speriamo appunto che sia una giornata soleggiata e che si possano divertire tutti al massimo. Grazie a tutti.